Allora buonasera a tutti, benvenuti al decimo virtual meetup, chi l'avrebbe mai detto che avremmo festeggiato il decimo virtual meetup, ma ne festeggeremo molti altri, mi auguro. Oggi più che mai parleremo di tecnologia, visto che nella sigla dice il consulente che incontra la tecnologia su Open Finance. Partiamo con cos'è il bitcoin? Scusa, è una currency? È una commodity? È un tangible asset? È un fungible asset? Oro digitale? Un sistema di transazioni P2P? Un asset di investimento o una nuova asset class? In realtà il bitcoin potrebbe essere tutte queste domande. Non vi preoccupate se non sapete dare una risposta esatta perché nemmeno i regolatori hanno le idee così chiare. In realtà secondo Satoshi Nakamoto il bitcoin è un sistema P2P, cioè persona su persona, elettronico per spostare il denaro, per fare le spostamenti di valore di transazioni. Quindi, vediamo come funziona. Partiamo da un concetto base. Se c'è Alice che deve dare un dollaro a Bob e sono di fronte uno all'altro, Alice gli passa il dollaro, Bob riceve il dollaro e la transazione di valore è stata fatta. Non c'è nessun registro, nessuna cosa, ho dato fisicamente i soldi. La cosa si complica un po' quando Alice è in un paese e Bob è un altro paese. Scusate ogni tanto, torna indietro invece di andare avanti. E quindi si mette in mezzo un intermediario, uno o più intermediari che devono registrare l'operazione di transazione tra Alice e Bob. In questo caso la banca o l'istituto di moneta elettronica, via dicendo. Alice dà istruzione a Dave, la banca, la banca registra su un registro la transazione e dà i soldi a Bob. E fin qua tutto bene, questo è quello che accade tutti i giorni. Come si può muovere in una forma digitale? L'idea è stata quella di decentralizzare il registro e quindi dare il registro non solo a Dave, il tizio di prima, cioè la banca, ma a tutta una serie di intermediari in mezzo, intermediari o comunque persone che hanno lo stesso registro. E quindi quando c'è la transazione, ogni transazione viene registrata su ogni singolo registro. E questa un po' è l'innovazione che è stata portata con questa logica. Quindi si è passati dalla criptografia, cioè dalla fiducia alla criptografia. Perché? Perché il sistema finanziario oggi è basato sulla fiducia. Cioè io mi devo fidare che la banca abbia i miei soldi, li tenga con cura, non li perda e se gli domanda di fare una transazione me la fa corretta. Per noi ormai è assodato, ma tecnicamente non è così scontato. Il bitcoin è stato inventato nel 2008, quando c'è stata la crisi finanziaria di Lehman. Se vi ricordate, in quel momento la sfiducia per il sistema finanziario e per le banche era ai massimi. E quindi ci voleva qualcosa che potesse permettere di trasferire il valore in maniera sicura senza per forza un intermediario. E quindi è stato creato un sistema basato sul concetto che non bisogna fidarsi di nessuno, ma contemporaneamente che nessuno può fraudare il sistema. Com'è possibile fare una cosa del genere? Allora, si è creato appunto un distributed ledger. Allora, per spiegarvi la logica, questa è una banca con tutti i suoi clienti, la banca tiene il registro, quindi se io devo spostare i soldi da un cliente a un altro all'interno della banca, semplicemente sul registro cambio il destinatario della somma di denaro. Se il sistema è più interallacciato con più banche e io voglio dalla banca A trasferire i soldi a un cliente che ha la banca C, ovviamente dovrò scrivere sulla banca A e sulla banca C e diventa un po' più complesso. Diciamo il SEPA oggi, per fare un esempio, è un sistema del genere. Oppure si crea un registro distribuito. Cosa vuol dire? Non che ogni banca o ogni intermediario ha il suo registro, ma che tutti gli attori hanno lo stesso registro e in tutti i registri ci sono scritte le stesse transazioni. In modo che nessuno, se un nodo froda e cambia qualcosa sul registro, viene ovviamente scoperto da tutti gli altri nodi. E quindi si è inventato il Distributed Ledger, ovvero il registro distribuito. Quindi tutti posseguono un'unica versione del registro distribuito e solo una persona alla volta è autorizzata a scrivere sul registro le ultime transazioni che si chiamano blocchi. Quindi chi è autorizzato si chiama miner, cioè è il cosiddetto miner che voi conoscete e capirete perché le hanno dato questo nome. E questo miner è autorizzato a scrivere sul registro di volta in volta. E ogni blocco deve essere scritto da un diverso miner. Perché? Perché l'ultimo blocco tutti sanno quali sono le transazioni all'interno e quindi quando io l'aggiungo al registro ovviamente non posso frodare quello che c'è scritto nel blocco. Però immaginatevi per fare un esempio che questo sistema è un registro che è sempre in PDF poi quando uno ha, e quindi non è modificabile, quando uno ha l'accesso al PDF per aggiungere un ulteriore blocco di transazioni questo PDF diventa un Word e quindi io posso aggiungere l'ultimo blocco. Però nel momento in cui ho il Word e aggiungo l'ultimo blocco potrei essere tentato di andare sulle righe precedenti e spostare i soldi che Gabriele aveva mandato a Maurizio da spostare da Gabriele che manda a Daniele. Però cosa succede? Che se io modifico quella transazione e dopo salvo di nuovo il PDF per fare l'esempio, ovviamente tutte le altre persone partecipanti hanno un PDF con una transazione diversa. E quindi ovviamente vince il numero di PDF che sono uguali all'altro. Quindi se io volessi riuscire a fraudare il sistema e modificare il registro in modo che gli altri credano che effettivamente la transazione è stata fatta a Daniele invece che a Maurizio, devo possedere il 51% dei registri dei miner in circolazione. Quindi i miner, praticamente per semplificarla, sono degli scrittori di blocchi nel registro distribuito. Quindi i miner sono software che cercano di decriptare un codice una volta che l'hanno decriptato, vincono il diritto di scrivere nel distributed ledger e quindi anche un reward che è una certa quantità di bitcoin che acquisiscono per il lavoro fatto. Quindi i bitcoin sono generati ogni volta che viene emesso un nuovo blocco e viene iscritto sul registro. Allora, perché il miner è una figura determinante? Perché potete ben immaginare che se è sempre lo stesso miner che scrive sul registro a un certo punto il miner potrebbe cambiare completamente tutto il registro e far finta e far credere agli altri che c'è stata una modifica. E quindi è importante che i miner siano sempre diversi. E quindi cosa si è creato? Chiamiamolo gioco, in realtà non è un gioco, di decriptazione che permette che il primo miner che riesce a ottenerlo acquisisce questo diritto, acquisisce il bitcoin. E quindi alla fine i miner vengono remunerati per lavoro svolto ma consumano anche dell'energia per poter trovare questa soluzione e quindi legare anche il valore del bitcoin al valore dell'energia spesa per la sua generazione. Perché quando uno va in cerca di estrarre dell'oro da una miniera deve investire dei soldi per scavare una miniera nella speranza di trovare delle pepite d'oro all'interno della miniera. E quindi è ovvio che quando ha finito l'estrazione e gli rimane una pepita in mano quel valore di quella pepita deve essere superiore al costo di scavare, di pagare le persone e tutto, altrimenti è un sistema economico che non avrebbe senso minare, cioè andare in cerca di oro. Lo stesso vale per il bitcoin. E quindi è importante che ci sia sempre un miner diverso, questo l'abbiamo già detto. Allora, la blockchain del bitcoin è stata creata con un piano di incremento di scarsità e di difficoltà nel risolvere il gioco. Perché questo? Adesso lo vedremo. Però l'incremento della scarsità coincide con la riduzione della remunerazione che non è prevista per ogni blocco che viene minato. E questo accade ogni circa quattro anni. Il cosiddetto halving. Allora, cosa significa halving? Significa in inglese dimezzare. E quindi immaginatevi nel 2009 Satoshi Nakamoto ha creato il primo blocco e per ogni blocco ha istituito che il miner guadagnava 50 bitcoin a blocco. All'epoca un bitcoin valeva 6 centesimi di dollaro, quindi non è che fosse una remunerazione così elevata. Oggi quella remunerazione sappiamo bene che sarebbe elevatissima. E così ha deciso di fare per i primi 210.000 blocchi. e quindi per un totale di emissione di 10 milioni e mezzo di bitcoin. Finiti i 210.000 blocchi, cioè circa nel 2012, sono stati dimezzati il reward per i miner, cioè da 50 sono diventati 25. e quindi per i successivi 210.000 blocchi sono stati dati ai miner 5 milioni e 250.000 bitcoin. Poi dopo altri 210.000, cioè nel 2016, c'è stato un altro halving e la remunerazione è passata a 12,5. e quest'ultimo che è venuto a maggio, la settimana scorsa praticamente, la notte tra l'11 e il 12, la remunerazione è passata da 12,5 a 6,25. E così si andrà avanti fino al 2140, con sempre meno bitcoin che vengono emessi. Senti Daniele, volevo farti una domanda a questo punto, anche perché questo primo... Certo, certo, io aspetta che tolgo per adesso la cosa. Ma potevi lasciarla perché ci serve. Ah, ok. La domanda che sorge spontanea comunque è questa. Ma perché a Satoshi o a questo gruppo di programmatori è venuto in mente di creare questo sistema in cui la remunerazione si dimezza via via nel tempo con questo sistema di... proprio di logica quasi periodica, mettiamola così. Perché si innesca questa idea? Allora, guarda, intanto vorrei magari scrivete sulla chat, vorrei che fosse chiaro tutto quello che è stato detto qui. Sì, sta seguendo la chat io, non preoccuparti. Ah, perfetto. Allora, lo spiego proprio adesso nelle slide successive. Sì, sta seguendo.